la leggiadrissima vanda o come si leggeva nel suo passaporto la rispettabile cittadina nastasia kanavkina uscita dall'ospedale si trovò in una situazione quale prima non aveva mai conosciuta senza tetto e senza soldi come fare prima di tutto andò al monte di pietà a impegnare l'anello con la turchese l'unico suo gioiello le diedero un rublo ma che cosa si compra con un rublo con tale somma non ci si compra né una camicetta corta alla moda né un cappello alto né un paio di scarpine color bronzo e senza queste cose ella si sentiva come nuda le pareva che non solo agli uomini ma perfino i cavalli e i cani la guardassero e ridessero della semplicità del suo vestito e pensava soltanto al vestito che il problema che cosa avrebbe mangiato e dove avrebbe pernottato non l'agitava per nulla se incontrassi almeno un conoscente mi farei prestare del denaro nessuno me lo rifiuterà perché ma di conoscenti non ne incontrava la sera al renaissance non è difficile incontrarne ma al renaissance non ti fanno entrare in un vestito così semplice e senza cappello come fare dopo un lungo tormentarsi che non ne poteva già più di camminare di star seduta e di pensare vanda decise di attaccarsi al mezzo estremo andare da qualche conoscente direttamente a casa e chiedergli del denaro ma da chi andare rimuginava fra sé da miscia è impossibile a famiglia il vecchio dai capelli rossi adesso è in ufficio vanda si ricordò del dentista finkel un ebreo battezzato che tre mesi prima le aveva regalato un braccialetto e al quale una volta durante la cena al circolo tedesco aveva versato sulla testa un bicchiere di birra ricordandosi di questo finkel e la si rallegrò straordinariamente di certo me ne darà se però lo troverò in casa pensava andando da lui e se non mi darà nulla mi spaccherò tutte le lampade di casa quando arrivò alla porta del dentista aveva già pronto il suo piano sarebbe corsa su per le scale ridendo si sarebbe precipitata nel gabinetto e avrebbe chiesto 25 rubli ma accostata appena la mano al campanello il piano chissà come di per sé le era già uscito di mente vanda ad un tratto cominciò ad avere paura e ad agitarsi cosa che prima non era mai accaduto e la era ardita sfrontata solo in compagnia di ubriachi ora con indosso un vestito qualunque col sentimento di far la parte di una volgare questuante che poteva anche non essere ricevuta si sentì timida e umiliata ebbe vergogna e paura forse si è già dimenticato di me pensava non risolvendosi a tirare il campanello e come mi presenterò a lui in questo vestito sembra una pezzente o una borghesuccia qualunque e con indecisione sono dietro la porta si sentirono dei passi era il portiere il dottore in casa domandò il in quel momento le avrebbe fatto piacere se il portiere le avesse detto di no ma quello invece di rispondere la fece entrare in anticamera e le tolse il palto la scala le sombrò lussuosa magnifica ma di quel gran lusso prima di tutto le saltò agli occhi un grande specchio nel quale vide una cenciosa senza cappello alto senza camicetta alla moda e senza scarpette color del bronzo e le sembrò strano che adesso che era vestita poveramente e somigliava a una cucitrice o a una lavandaia facesse la sua comparsa la vergogna e non la sfrontatezza l'ardire e nel pensiero non si chiamò più vanda ma come prima nastasia kanavkina prego disse la cameriera accompagnandola nel gabinetto il dottore viene subito accomodatevi vanda si lasciò cadere in una morbida poltrona così gli dirò fatemi un prestito pensava la cosa è decente perché siamo conoscenti se però la cameriera se ne andasse in presenza della cameriera è imbarazzante perché sta lì in palata dopo cinque minuti si aprì la porta ed entrò finkel l'ebreo convertito un uomo alto e abbronzato con le guance grassottelle e gli occhi un po sporgenti dalle orbite le guance gli occhi la pancia le grosse cosce tutto in lui era ben pasciuto ripugnante duro al rinassanza il circolo tedesco egli andava per divertirsi spendeva un mucchio di soldi per le donne e pazientemente ne sopportava gli scherzi per esempio quando vanda gli aveva versato la birra sulla testa e gli aveva soltanto sorriso amminacciato col dito adesso invece aveva un'aria arcigna e assonnata e guardava con importanza freddamente come un superiore e masticava qualcosa che desiderate domandò senza guardare vanda vanda gettò un'occhiata al viso serio della cameriera alla figura sazia di finchè che evidentemente non l'aveva riconosciuta e arrossì che desiderate ripete il dentista già irritato i denti mi fanno male mi svegliò vanda ah quali denti dove vanda si ricordò che aveva un dente cariato giù a destra e la disse aprite la bocca finché si rabbruscò trattenne il respiro e cominciò ad esaminare il dente malato fa male domandò scavando nel dente con un ferretto male menti vanda se glielo ricordassi pensava certamente mi riconoscerebbe ma la cameriera perché sta lì imparata finché da un tratto cominciò a sbuffarle dritto in bocca come una locomotiva e disse non vi consiglio di otturarlo tanto non vi serve già più nulla lo stesso dopo aver scavato ancora un pochino nel dente e sporcate le labbra e le gengive di vanda con le sue dita tabaccose trattenne di nuovo il respiro e le ficò in bocca qualcosa di freddo vanda a un tratto sentì un dolore terribile cacciò uno strillo e afferrò la mano di finchel niente niente borbotò egli non spaventatevi tanto questo dente non vi servirebbe a nulla siate coraggiosa e le dita tabaccose coperte di sangue le misero davanti agli occhi il dente strappato la cameriera si avvicinò e le portò una tazza alla bocca a casa sciacquatevi la bocca con acqua fredda disse finchel e il sangue si fermerà stava davanti a lei nella posa di un uomo che aspetta che l'ospite se ne vada e lo lascia in pace addio disse illa avvolgendosi alla porta e chi mi pagherà il mio lavoro domanda finchel con voce ridente ah sì si ricordò vanda arrossì e diede all'ebreo convertito il rublo che aveva appena avuto al monte di pietà per l'anello con la turchese uscendo nella strada e la sentiva ancora più vergogna di prima ma adesso non la mortificava la miseria non si accorgeva già più di non avere né un cappello alto né una camicetta alla moda camminò per la strada sputando sangue e ogni sputo le parlava della sua vita non bella e grave delle offese che aveva sopportato e ancora avrebbe sopportato domani la settimana prossima l'anno venturo tutta la vita fino alla morte oh com'è terribile bisbigliava fra sé com'è terribile mio dio del resto il giorno dopo e lei era di nuovo a rinassans a ballare aveva un nuovo cappello rosso enorme una nuova camicetta alla moda e le giovane mercante arrivato da casa a 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 e a a a a a a a a Grazie.